E ciao a tutti ragazzi dal vostro mascherato e ben ritrovati anche oggi per un nuovo video unboxing ragazzi sempre in collaborazione con Resolution Shop a Palermo questa volta abbiamo ragazzi come protagonista una figure di Metal Gear Solid V The Phantom Pain Sigla! E rieccoci ragazzi con questo pezzo da 90 della Jekko Corp ragazzi una marca una garanzia come potete vedere questa figure in scala 1 a 6 come si vede scritto sotto ragazzi in scala 1 a 6 statue parliamo di Venom Snake del videogioco Metal Gear Solid V The Phantom Pain qui abbiamo come potete vedere ragazzi una piccola finestra centrale con lo stemma del Diamond Dogs che sarebbe ovviamente famosissimo nel gioco lateralmente tutte le varie scritte ragazzi inerenti a Snake, la figure e al gioco qui dietro ragazzi abbiamo la stampa della nostra figure con il nostro Snake ragazzi già la stampa fa impazzire io ho giocato questo Metal Gear è il secondo quindi non sono un fan accanito della saga però ragazzi Jekko è garanzia di qualità praticamente anche da questa parte molte scritte ragazzi pressoché c'è scritto Sculptor quindi sarà lo scultore e il painter della nostra figure sopra abbiamo semplicemente la scritta ecco qui la giriamo Metal Gear Solid The Phantom Pain e sotto ovviamente le varie scritte ragazzi da chi è prodotta la Jekko e le varie avvertenze andiamo subito ad aprire ragazzi per farvi vedere cosa c'è nel blister trasparente sono emozionato ragazzi perché ripeto il personaggio mi è piaciuto nel videogioco molto soprattutto e quindi parlando di Jekko ragazzi sono curioso di aprire questa figure andarla subito a vedere innanzitutto ragazzi ci stacchiamo un secondo piccola chicca che abbiamo qui ragazzi sembrano delle ora andremo a vedere ecco qui torniamo in base ragazzi adesso la esco promesso un secondino solo ecco qui uscita la nostra figure di Snake eccolo qui come si presenta nel blister trasparente ci sono un sacco di gadget ragazzi che adesso andrò a farvi vedere con la nostra figure montata ed eccoci ragazzi con il nostro Snake tutto assemblato per meglio dire quasi tutto assemblato perché non ho messo ovviamente ragazzi i sigari che danno in dotazione ne danno tre ce ne va uno ma ho preferito non staccarli dalla plastichetta ragazzi tanto dico non fa nulla vedete già come la statua in più ecco qui quello che c'era messo nello scatole semplicemente una come si può dire una tesserina con tutta la scritta della figure e davanti la stampa del nostro Snake e poi ragazzi c'è la possibilità diciamo di cambiare togliere la mantellina e mettere come potete qua vedere il colletto della camicia della giacca diciamo normale a posto appunto della mantellina che vedete qua vi faccio una breve panoramica del nostro Venom Snake ragazzi che è fatto in maniera incredibile Gekko come dicevo io ragazzi a livello di qualità non sbaglia davvero perfetto si è girato un po' il fucile ecco che lo mettiamo a posto dettagli ragazzi painting tutto eccezionale tutto eccezionale davvero bellissima questa statua di Snake andiamo subito nel dettaglio ragazzi partendo dal viso allo sculpt facciale che è eccezionale guardate qua i dettagli della barba l'occhio le cicatrici la benda ragazzi il corno che fuoriesce dalla fronte tutto fatto in maniera perfetta è lui ragazzi il codino bellissimo nulla da dire ragazzi fatto in maniera perfetta eccolo qui di nuovo in quadratura qui ovviamente ragazzi nella mano va il sigaro come vi dicevo prima non riesco più a mettere a fuoco ecco date anche il dettaglio della mano ragazzi le unghie pazzesco pazzesco snake ecco qui la mantellina che come vi dicevo si può togliere rimuovendo anche questo piccolo pezzettino e si mette il colletto della camicia normale qui la tracolla del del fucile eccolo qui anche questo ragazzi molto dettagliato come potevate ricordarvi ragazzi si potrebbe cambiare il colore di di ogni tipologia di arma qui il braccio con l'orologio anche questo ragazzi riprodotto in maniera molto fedele in tutto credo si snodi anche forse vedete qui c'è un piccolo snodo ma ovviamente non ho preferito forzarlo qui l'orologio non ho forzato neanche l'attaccatura del braccio ragazzi che andava lievemente un po' più in dentro qui lo stemma ragazzi bellissimo anche questo fatto in maniera divina diamond dogs sembra quasi uno stemma davvero attaccato a una manica il painting è eccezionale ragazzi delle borsette qui che c'ha il classico registratore tutto ragazzi fatto in maniera fedele al personaggio del videogioco davvero non non c'è un non gli vedo difetti ragazzi tutto fatto in maniera perfetta bellissima no sbaglia guarda qui guardate guardate qui ragazzi tutto perfetto in maniera divina anche la sporcizia che è negli stivali davvero tutto perfetto vi faccio fare ragazzi un'altra panoramica della nostra figure in scala 1 a 6 del nostro snack ripeto davvero bellissima in ogni minimo dettaglio anche i particolari del braccio ecco aspettate riandiamo sul braccio non ve li ho fatti vedere ecco qui le cicatrici anche il guanto il dettaglio riusciamo a rimetterlo a fuoco non si fa rimettere a fuoco ragazzi ecco qui bellissima mi piace un sacco ragazzi sicuramente non ha il costo delle classiche ban presto che vedete lì dietro ma tutto fatto molto 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 bene diciamo manca la sporcizia ragazzi nei vestiti è fatta in maniera perfetta ridiamo un'occhiata anche alla base vi ho fatto vedere poco eccola qui i muretti classici muretti che si trovano nel videogioco davvero tutto molto molto bello ragazzi consigliatissima per chi è fan di Metal Gear ragazzi una riproduzione così fedele difficilmente si trova eccola qui di nuovo vi ho fatto vedere la panoramica ragazzi il painting ottimo sculpt eccezionale consigliatissima al 100% da Snake ragazzi è tutto anche da me vi ricordo sempre ragazzi di mettere un like al video se vi è piaciuto sotto in descrizione trovate il nominativo del mio gruppo facebook dove potrete iscrivervi anche ragazzi iscrivetevi ovviamente al canale attivate la campanella al prossimo video grazie a tutti